L'istituto in tre parole, per me potrebbe essere giovane, sicuramente, perché tutte le persone che ne fanno parte sono giovani e questo fa sì che si formino anche delle energie nel gruppo, per cui è anche divertente poi lavorarci. Oltre a giovane è utilissimo perché ti dà molti strumenti per permetterti poi di andare avanti con il tuo negozio, la tua attività, perché oltre a tutte le persone giovani che già fanno parte dell'istituto, ci sono anche i mentors che stanno lì per aiutarti, persone con esperienza e quindi diciamo che si può imparare tanto. È una terza parola, accessibile, perché è un'istituzione che è aperta a tutti e che può aiutare tutti. Allora, la cosa che mi piace di più dell'istituto sicuramente sono le persone che ci sono. Non penso che sia una risposta originale, però è vero. Un gruppo di persone giovani fa sì che le persone abbiano più voglia anche di lavorare, a parte delle sinergie che si possono creare gli uni con gli altri. Per convincere qualcuno ad entrare nell'istituto sicuramente gli direi di partecipare alle selezioni, al programma di selezione, perché è un'esperienza utile per mettersi alla prova, vedere quanto conosci il tuo proprio progetto e come riesci a spiegarlo ad altre persone per poterle convincere a investire nel tuo progetto. Una cosa che è cambiata nella mia vita è sicuramente il fatto che ho lanciato un nuovo progetto che avevo in mente da mesi e ho approfittato della spinta dell'istituto per poterlo lanciare. Quindi ora diciamo che sono al 100% sul nuovo progetto. Ciao mamma, sono all'istituto europeo! Ciao mamma, sono all'istituto europeo!